Eccomi scombinata, ho gli occhi lucidi perché ho pianto dal ridere, stavo a lacrime e la colpa è tutta ed esclusivamente di Candida Sini e di Davide Zaccardi che non l'hanno piantata di sparare castronerie su un mio post e io mi sono pisciata quasi addosso, quindi sappiate che se andrò in cerca di Tenaledi la colpa sarà esclusivamente loro, avevo promesso che li avrai nominati, mamma mia che ridere, fanciurlo a tutte e due in coppia, anzi una fanciurlo in macchina e l'altro fanciurlo in bicicletta, voglio rispondere di nuovo a un utente che mi aveva scritto qualche tempo fa, ma io ho una sorta di scaletta, anche se poi prendo gli appunti e prima o poi ci arrivo, a proposito Lady Ghost e Lady Sadako salutano i miei petardi pure e mi si smocca anche, tornando seri si fa per dire se non mi scapparimo da ridere per colpa di quelle due cocozze, mi vendicherò un utente qualche tempo fa, un attimo, ho ancora le ultime scariche, ce la posso fare, mannaggia la cutrettola, mi hanno fatto venire pure la tosse, saranno malvagi, mo vado a vedere, perché hanno continuato a scrivere, hanno continuato a fare i malvagi, non ti autorizzo, troppo tardi ti ho già nominata, ecco appunto, ora ci scrivo troppo tardi, ti ho già nominata, eppure al tacco 12, loro capiscono, voi no, ma loro capiscono, torniamo seri, si fa per dire, torniamo noi, che forse è meglio, allora, sempre colpa loro, mi hanno fatto venire pure la tosse da ridere, allora, un utente, dicevo, qualche tempo fa, mi aveva scritto sotto a uno dei miei video, come commento, mi è venuta una curiosità, Sve, ma i defunti di noi esseri della terza dimensione, tra di loro, stanno insieme, cioè, vagano ognuno per conto loro, e se invece si incontrano, comunicano solo col pensiero, perché non fai un video apposito per questa tematica? Eccolo, tadaaa! come lo posso intitolare? incontri tra fantasmi mi piace 10 allora, incontri tra fantasmi i defunti di noi esseri umani della terza dimensione, tra di loro, stanno insieme c'è chi sta insieme e chi non sta insieme chi socializza e chi non socializza chi ha voglia di andare a cercare qualcuno e chi non gliene frega niente come siamo di qua, siamo di là anche di qua c'è quello più socievole, quello che ha bisogno di fare la passeggiata per salutare tutto il vicinato io ho mio marito che quando andiamo alla fermata dell'autobus essendo un paesino piuttosto piccolo e anche i paesini limitrofi sono piuttosto piccolini più o meno qui si conoscono tutti io a mio marito gli dico che fa il papa perché come si mette alla fermata dell'autobus mentre spediamo la corriera qualsiasi macchina passa lui a prescindere pare il papa a San Pietro saluta tutti io un po' che sono accecata e un po' che quando guidavo odiavo chi mi salutava da fuori perché mi distraeva l'ho sempre ritenuta una mancanza di educazione totale salutare uno che sta guidando perché sta guidando e deve essere concentrato sulla guida quindi se gli fai non è bello non sta bene come diceva Govi non è bello non sta bene però a prescindere lui c'ha col vizio e e dicevo come siamo noi di qua siamo anche di là quindi suppongo che io di là me ne starò su una nuvoletta per conto mio o su o in una casetta sperduta nell'oltre costruita senza porte e finestre a giocare ai solitari di Napoleone con le carte da sola e starò benissimo mentre invece mio marito saluterà anche le file le processioni dei defunti sicuro come loro perché è caratteriale non c'è una regola puoi fare vita sociale se ce n'hai voglia di farla e puoi fare vita asociale se non hai voglia di farla semplicissimo vagano ognuno per conto loro ma non è che vagano ognuno di noi ha voglia, tempo e doveri di far cose no? anche di qua a prescindere dal contesto di sfondo che può cambiare stasera muoio se muoio vado a tirare i piedi a quei due e a prescindere dallo sfondo del contesto i vivi e i defunti sono ciò che erano cioè quando uno è in vita o quando uno è defunto la sua anima è sempre la stessa ha la stessa caratterialità quindi anche sul discorso vagare c'è quello che vaga c'è quello che magari vuole esplorare se ne va in giro per il cosmo c'è quello che organizza una gita di gruppo c'è quello che non c'era per l'anima e se ne sta nella casetta senza porta senza finestra a farsi i solitari di Napoleone da solo perché sta bene così c'è quello che va a cercare la nonna perché gli era rimasta impressa la nonna c'è quello che non gliene frega più niente di cercare nessuno però vuole conoscere gente nuova anche lì non è un vagare poi di là ci sono comunque dei compiti delle cose da portare a termine per chi perlomeno ha l'onere di sviluppare un determinato compito certo non tutti ma alcuni hanno anche dei doveri e dei compiti da eseguire quindi diciamo che in base a ciò che uno vuole fare o deve fare si comporta di conseguenza a volte in maniera sociale a volte in maniera asociale a suo libero arbitrio uguale come qua la terza domanda era e se invece si incontrano comunicano solo col pensiero se si incontrano due anime possono scegliere come comunicare in base a mille mila fattori se io vado di là e so di essere defunta quindi non ho perso la memoria e incontro l'anima di quella che era stata mia nonna perché la incrocio perché la cerco perché lei cerca me per mille motivi e lei si ricorda di essere stata mia nonna e di essere stata italiana possiamo anche parlare a voce in italiano senza problemi di sorta se incontro che ne so adesso a farmi venire in mente qualche personaggio particolare che ne so ecco incontro bin laden che parla arabo e io l'arabo me manca nelle lingue che ho studiato l'arabo mi manca so solo la preghiera di allontanamento dalla negatività e anche la preghiera che calma un eventuale musulmano incavolato che potrebbe in qualche modo attaccarti o litigare con te in quel caso lì basta pronunciare la preghiera tra virgolette appunto islamica la e quello lo so perché campando in giro per i vicoli di genova era ottimo conoscere certe protezioni vocali però ripeto più di lì con l'arabo non vado se io incontro bin laden e magari gli voglio credere ma è vero che eri un terrorista o eri solo stato pilotato dall'america perché il dubbio ce l'abbiamo sembra avuto in tanti no? e quindi se dovessi incontrarlo è una domanda che potrebbe anche venirmi voglia di fare così giusto per sfizio personale a sapere le cose come state in quel caso in quel caso lì non potrei parlare in arabo a bin laden e lui dubito che mi possa parlare in italiano in quel caso lì la telepatia non ha lingua sarebbe un incontro nel quale potremmo parlare solo in maniera telepatica oppure potremmo avere il ricordo di aver fatto una vita sullo stesso pianeta nella stessa nazione e aver parlato la stessa lingua di Kodak e quindi possiamo stare mezza giornata a discutere con e capirci non c'è una regola linguistica tutto sta alle capacità di entrambe le figure o delle più figure se sono più di due che stanno colloquiando fatto che di là non esistono le etnie non esistono le razze e non esistono neanche le lingue i defunti parlano una lingua perché se la ricordano avendola appresa nella terza dimensione materiale non perché sia la loro di conseguenza il modo base di comunicare dell'anima defunta della quarta dimensione è sempre comunque la telepatia però ripeto è una scelta come un'altra io sono italiana parlo italiano but I can do speak in English o je veux parlare in français o io tengo ad parlare in spagnol kuptoship e quant'altro perché posso decidere se conosco la lingua di parlare anche in un'altra lingua bene o male che ne parlo il fatto che la conosco non significa che sia mia di là è la stessa cosa la lingua ufficiale tra virgolette lingua perché non è una lingua di tutti i defunti è sempre la telepatia ma la scelta è libera e tranquilla ad esempio alcuni medianici alcune persone che hanno l'udito medianico succede spesso che sentano confabulare parlottare e molto spesso mi dicono ma quando sento parlottare non capisco cosa mi stanno dicendo e che a volte non parlano con voi stanno parlando tra di loro solo che voi sentite farfugliare perché avete la capacità dell'udito medianico e questo è il succo su cui appunto mi chiedevano di fare la tematica il video e io l'ho fatto gli incontri sono nel libero arbitrio io quando arrivo di là in base anche ai fattori di contorno quindi cosa mi ricordo cosa non mi ricordo se sono riuscita a raggiungere i miei notifocali se non ci sono riuscita se ho l'ossessione di beccare qualcuno o se non ho quell'ossessione se non me ne frega una mazza perché sono rimasta attaccata al mio accendino fucsia e quindi voglio rimanere qua perché ero affezionata a quell'accendino o a quella casa o a quel gatto o a quella tomba o a quel quant'altro ma escluse tutte le possibili distrazioni che potrei avere in qualche modo dalle funta se sono di là tranquilla pacifica sono morta so di essere morta è una questione meramente caratteriale quindi io posso decidere di dire ma oggi non so che cavolo fare mi faccio una passeggiata per l'oltre vado a fare due chiacchiere con chi becco oppure come accadde in paradiso che quando lui muore lo va a prendere la zia e gli dice ma come mai sei venuta tu e lei gli dice perché sapevano che ti conoscevo e hanno pensato che ti avrei dato un po' più di sicurezza se venivo io a prenderti e quindi sono passata a prenderti così solo perché a me mi conoscevi già esattamente a quello io potrei avere che ne so arrivo di là tranquilla serena pacifica chissà che fine ha fatto quella signora anziana che io chiamavo zia Elvira quando ero bambina vado un po' a vedere se è ancora da ste parti o se invece si è reincarnata lì spostarsi non è camminare pensi al posto puf sei lì pensi alla persona puf sei davanti e quindi una volta che pensi a un'anima quindi è una persona per come te la ricordavi ci sei davanti poi se sei reincarnata sei davanti a chi sei reincarnato ovvio che lui magari non ti vede o lei però sei nella terza dimensione se non sei reincarnato la becchi per l'oltre perché puf ci appari davanti quindi ritrovare eventuali persone è relativamente semplice anche quando vanno in crisi le persone che dicono ma allora di là non vedo più nonna non è che non la vedi più la puoi vedere come e quando vuoi nessuno ti vieta di andare a vedere nonna ma se non era un tuo filo rosso nel momento in cui anche tu sei di là di vedere nonna non te ne frega più una mazza e a nonna non gliene frega più una mazza di vedere a te se invece è un tuo filo rosso è capace che hai ancora voglia di incontrarlo perché lo conosci perché è un parente d'anima è semplice non è non c'è nulla di vietato la gente va in ansia no? ma allora non vedo più mia mamma non è che non la vedi più se tu la vuoi vedere una volta che sei di là basta che pensi voglio vedere e immagini quella persona puff ci sei davanti puoi vederla quando vuoi il fatto che a volte li vediamo e a volte no a volte li incontriamo e a volte no sta tutto sul fatto che a volte non ce ne frega più niente di incontrarli oppure ci interessa ancora incontrarli ma di là questa cosa è reciproca non è che io voglio tanto vedere nonna ma nonna non me vuol vedere non funziona così o non ce ne frega niente a nessuno dei due perché non siamo parenti d'anima e allora non me ne frega niente manca a me oppure ce ne frega a tutte e due in quel caso lì ci incontriamo non c'è nulla di tragico la gente va in crisi quando dico che normalmente si vedono di più i propri fili rossi che non c'entrano in un tubo con la parentela animi con la parentela di sangue nelle varie reincarnazioni anche perché sarebbe assurdo pensare di incontrare 897 padri 497 madri 2000 nonni 4000 bisnonni 8000 trisavoli non non diventerebbe un po' stressante anche di là alla fine peggio che i natali in famiglia quando sei bambino di conseguenza ma sono libere scelte e normalmente sono scelte sempre bilaterali non è che uno non vuole l'altro ci resta male il sentimento qua è smosso dalle emozioni di là i sentimenti ci sono tutti ma non danno emozione quindi quello che a noi fa venire l'ansia non è il sentimento è l'emozione di là l'emozione non c'è quindi l'ansia non ce l'abbiamo vinto e questo è il succo però per quanto riguarda la socialità e la dialettica come ho spiegato prima essere sociali o essere asociali è un discorso meramente personale è una scelta libera di là il libero arbitrio è totale a prescindere che anche di qua c'è un molte volte ne parlavo proprio stasera che poi alla fine mi hanno fatto ridere Mimmi e Cocò molte volte il nostro libero arbitrio ovvio il nostro libero arbitrio che non va però a ledere il libero arbitrio di altre persone ma la nostra personale libertà molte volte è condizionata dal fatto che noi temiamo l'opinione altrui parlavamo di un discorso differente parlavamo del Giappone dove si racconta che le donne sono ancora giudicate in maniera inferiore all'uomo e io stavo cercando di spiegare a Mimmi e Cocò che lo sono a livello folcloristico a livello di cultura mentale non di legge le leggi sono uguali per tutti anche lì certo che la mentalità è se è ottusa la colpa è di entrambe le parti perché c'è l'ottuso che ti giudica ma c'è anche l'ottuso che ha paura del giudizio e quindi non si comporta non fa non imbrega perché ha paura del giudizio se tu hai paura di una cosa gli dai forza a quella cosa e io sono completamente ma proprio del giudizio degli altri ma sai quanto mi passa alto io l'ho sempre detto a me mi potete giudicare un genio e mi potete giudicare pazza mi potete giudicare bella e mi potete giudicare un cesso mi potete giudicare santa e mi potete giudicare zoccola non me ne può fregare de meno non cambio il mio comportamento il mio modo di pensare il mio modo di dire le cose in funzione di cosa gli altri pensino di me quindi a parità di pensiero io vivessi in una nazione che sia il giappone io perché amo il giappone per quello discutevamo di quello ma fosse anche un'altra nazione io vivo bene uguale perché a me che uno mi creda superiore o inferiore non faccio neanche lo sforzo di fargli cambiare idea non mi interessa la sua opinione non mi è mai fregata una mazza nemmeno dell'opinione di quelli che avevo in casa figuriamoci se me ne frega qualcosa dell'opinione degli estranei le opinioni e i pregiudizi prendono forza quando gli altri dall'altra parte li temono se tu non temi un pregiudizio quel pregiudizio lì muore è un po' come quello che ti fa il dispetto no? che se vede che a te quel dispetto non ti fa né caldo né freddo un po' la pianta le fartelo perché tanto non ci prova gusto è la stessa cosa poi siamo finché a parlare delle manate al culo no? che la manata al culo per la donna è una tragedia e per l'uomo invece scherzava il mio amico dicendo a noi non ce le danno mai e io come al solito per me a me danno fastidio le mani addosso mi da proprio fastidio la gente che mi pugna quando parla ma che mi tocca il culo o che mi tocca la faccia o che mi tocca un braccio è la stessa identica cosa gli arriva un pugno in mezzo ai denti a prescindere però il pugno non glielo tiro però diciamo che mi giro abbastanza male perché mi danno proprio fastidio le persone che ti pugnano ma non faccio caso se mi stai pugnando il culo un ginocchio una spalla o la testa reagiscono nello stesso modo perché non ho la cognizione come si può dire io la dico viscida però non è che vado subito a pensare al contorno viscido del culo come parte sessuale del corpo per me è un pezzo di carne come un altro né più né meno che sia femminile che sia maschile che non me devi toccare perché non me devi mettere le mani addosso se mi fai così mi dai fastidio uguale mi viene voglia di tranciarti le dita nello stesso modo non cambia niente che me lo fai qua o come lo fai sulla chiappa quindi quando fanno tutte ste sceneggiate come sceneggiate passate o cosa perché qualcuno ha dato ripeto la manata non la devi dare a nessuno se non mi conosci poi ma anche se mi conosci a me le manate non me le devi dare ma neanche qua la manata non la devi dare a nessuno ma che sia un culo un culo una coscia una spalla un cozzetto per me alla fine è sempre un pezzo di corpo io non ce la metto mai la malizia nelle cose perché la trovo squallida non mi interessa pensare a quelle cose trovo squallido il rapporto di appioppagine a livello di provarci sessualmente non me ne può fregare di meno ripeto il discorso delle mani che toccano un'altra persona da qualsiasi parte è un discorso che non va bene le mani te le metti nel tuo di sedere e stringi ma non perché sia il sedere che sia il sedere che sia una guancia che sia una spalla che sia una tetta per me è la stessa cosa è un pezzo di corpo che tu non devi giocare punto perché gioco di mano gioco da villano le manacce tu e te le tieni in tasca questo che sei donna che sei uomo indipendentemente quello è il mio discorso il mio pensiero non me ne frega niente la manata sul culo o la manata sulla faccia o la manata sulla spalla mi dà fastidio che me la dia un uomo che me la dia una donna mi dà fastidio anche se me la dà un amico o un'amica per scherzare o per salutare e mi dà già fastidio però con gli amici mi trattengo perché a volte uno non ci pensa io per esempio ho un carattere che quando mi affogo non sopporto che la gente mi batta sulla schiena e avverto sempre prima mi raccomando lasciatemi soffocare ma non mi battete sulla schiena perché non so come reagisco e poi faccio la fine di Will Smith alla notte negli Oscar perché è una cosa che non sopporto anche se lo fai per bene perché vuoi cercare di far passare in realtà fai male perché non si deve mai picchiare sulla schiena uno che si sta affogando mai la mossa è un altro discorso si fa ai bambini ma anche agli adulti ma quando si blocca qualche cosa di grosso in gola quando uno si è affogato con l'acqua e comunque non è una botta ma è una strizzata allo stomaco le botte sulla schiena non vanno mai date e qualche mio amico ci ha rischiato la dentatura per avermi dato due botte quando mi affogavo con qualcosa quindi proprio perché è un atteggiamento quello della mano sul corpo che mi dà fastidio già sono associale di mio se poi mi toccugni è finita però non ho quel metro di misura del tipo vabbè sulla spalla posso anche accettarlo il culo non si tocca per me il culo e la spalla sono la stessa cosa non si toccano uguali c'è un posto predisposto all'inferno per chi toccugna quando parla lo dico sempre e da lì poi abbiamo cominciato a far battute idiote e per quello che poi ero arrivata a lacrime alla fine del video comunque ho tentato di rispondere alla domanda dell'utente mi sono già dimenticata come volevo intitolare il video quindi risentirò la prima parte del video meno male che prendo appunti dicendovelo c'ho una memoria che prima o poi mi perdo per strada altro che colombo buonanima nell'ultimo periodo in cui aveva l'alzheimer vi saluto vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate anche a fare opinionismi vari ed eventuali e un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in mente i miei libri che ad oggi sono sei e conto sull'universo e sul cosmo che riesco a far uscire il settimo intorno ai primi di maggio spero e mi auguro voi incrociate le ditine ciao